Colgo l'occasione dell'inizio del 2023 per fare come sempre il punto della situazione e anche quest'anno tirare un po' le somme, mi riferisco al periodo del 2022, in cui alcune cose sono state fatte, alcune cose sono state subite, alcune cose sono state ottenute e quindi è logico fare il tirare in barca alla fine e vedere cosa ci abbiamo perso e cosa ci abbiamo guadagnato. Sempre dal punto di vista coscienziale una cosa che mi è saltata agli occhi è che forse la cosa più interessante da un punto di vista sociologico è il rapporto che l'umanità, in qualche modo parliamo semplicemente degli italiani che facciamo prima, l'umanità italiana ha avuto con la scienza e vedete ci siamo resi conto che questo rapporto è un rapporto sostanzialmente sbagliato, sostanzialmente perché gli italiani hanno subito la scienza in questo ultimo anno, non l'hanno in qualche modo integrata, non hanno compreso che cosa in realtà fossero tutti quei messaggi di natura scientifica e pseudoscientifica che gli venivano dati attraverso i mainstream per esempio. Allora è importante cercare di dare, secondo me, una chiarificazione sull'aspetto della scienza. La scienza non va subita innanzitutto, la scienza va compartecipata. Ma come si fa a dire a una persona della strada che ha la terza elementare, ora ti parlerò della fisica quantistica, ora ti parlerò della pandemia, ora ti parlerò della terra piatta, ora ti parlerò del colore del burro, quello che si compra al supermercato. Per esempio, la gente pensa che il burro giallo sia più buono del burro bianco perché dice il burro giallo è sicuramente meno trattato perché è come quello degli nostri padri, dei nostri nonni. E non ha la più valida idea che il burro viene ingiallito con un apposito colorante per fregare il compratore. Questa è una cosa abbastanza banale, ma è un aspetto della scienza, la scienza dei coloranti che viene utilizzata nel mercato degli alimenti. Un esempio. Come facciamo noi a fidarci di quello che ci è stato detto sulla situazione pandemica italiana? Come facciamo noi a fidarci quando arriva un tizio e ti dice la terra è piatta? Ci sarà necessità di comprendere che cos'è la vera scienza? Quella senza H. Guardate, la cosa è semplice. Da un punto di vista del riassunto delle puntate precedenti. Bisogna partire da Platone. Platone diceva una cosa fondamentale. Platone diceva che esisteva l'anima innanzitutto e che l'anima faceva parte del corpo, ci abitava dentro in qualche modo. Poi è arrivato Aristotele e dopo Aristotele è arrivato Galileo. Aristotele sostanzialmente pensava che non ci si doveva sporcare le mani con la sperimentazione. Quella era una roba manuale. Invece Aristotele era il cervello che doveva essere usato, secondo lui. Quindi Aristotele leggeva i libri degli altri, sostanzialmente, si confrontava con gli altri e poi, senza andare in laboratorio, scriveva un libro, un trattato, con le sue idee, che peraltro rimanevano sue idee e non potevano essere sperimentalmente messe in evidenza. Galileo invece ha la necessità di mettere in evidenza tutto quello che si dice per comprovarlo. Quindi si deve passare attraverso una sperimentazione. Questo è quello che sostanzialmente oggi noi crediamo. In realtà io credo che Galileo sia passato di moda perché che cosa diceva alla fine Galileo? Galileo diceva che ci sono quattro punti fondamentali, che sono i punti che determinano un percorso scientifico. Uno, accorgersi che esiste un fenomeno fisico da studiare. Certo, se non te ne accorgi non lo vedi e non lo studierai mai. Due, osservare bene questo fenomeno fisico per vedere come si comporta e cercare di capirne tutti i segreti. Numero tre, andare in laboratorio e riprodurre il fenomeno fisico. Dopo che il fenomeno fisico è stato riprodotto, quarto punto, scrivo un algoritmo, una legge, che descriva matematicamente il fenomeno che io ho studiato. Né più né meno. Non c'è altro da aggiungere. Si capisce sostanzialmente che Galileo allora non si rendeva conto di una cosa fondamentale di cui poi noi, anche a livello di fisica quantistica, ci siamo resi conto negli anni più vicini a noi. Cosa dice Galileo? Il fenomeno deve essere ripetibile. Questa è una grossa limitazione del fenomeno scientifico, perché se esiste un fenomeno scientifico che non è ripetibile, Galileo non lo prenderà in considerazione e quindi gli stolti potrebbero pensare che quello non è un fenomeno scientifico. Il fenomeno deve essere ripetibile, se non è ripetibile non esiste. Benissimo, allora noi non esistiamo perché il Big Bang ce n'è stato uno solo e quindi è inutile che stiamo a studiare sto Big Bang perché non ce ne saranno mai due. Quindi, anche se ce ne fossero due, noi al secondo Big Bang non ci siamo e quindi è come se ce ne fosse uno solo comunque. Quindi la nascita dell'universo non è contemplata dal metodo galileiano. Ma non so se qualcuno ci aveva mai pensato. Evidentemente c'è qualcosa che non va. A scuola mi avevano insegnato che la grande differenza tra le ideologie di pensiero erano quella di Aristotele contro quella di Galileo. Aristotele sostanzialmente era un pilastro della chiesa, Galileo era il pilastro della scienza. Invece io, andando avanti nel tempo, scopro che Aristotele e Galileo stavano nella stessa parte, perché scienza e religione venivano tutte da un unico ceppo che era la magia. Allora dov'è la differenza, dov'è la dualità, dov'è il cambiamento? Il cambiamento è tra Platone e Galileo, non tra Aristotele e Galileo. Platone pensa tutto quello che volete voi, però c'è anche la parte animica. Galileo dice se non lo vedo, se non lo misuro, non esiste, non c'è. Ma anche se ci fosse, non avrebbe nessun senso misurarlo perché noi non lo vediamo e quindi il fenomeno fisico non misurabile non interagisce con noi, quindi per noi non esiste. Che è un punto di vista che può avere la sua validità. Platone va oltre, anche se il fenomeno non lo vedi, non lo vedi perché non hai la capacità di vederlo, ti dico io, perché tutto è legato alla coscienza. Allora, quello che si scopre da questo discorso è che con il passare degli anni la scienza ha fatto dei passi avanti e su questo nessuno ci mette il dito in questa dichiarazione. Ma in che senso ha fatto dei passi avanti? La gente pensa che nel passato noi abbiamo scoperto delle cose e nel futuro ne scopriremo delle altre. Non è così. Nel passato abbiamo scoperto delle cose che nel futuro riscopriamo, le riscopriamo in un modo nuovo, in un modo diverso. Quindi non c'è una scienza che va a scalini. Oggi ho scoperto questo, domani scopro quest'altro, dopodomani scopro quest'altro e così via. Una scienza cioè temporale. Esiste un'unica scoperta. La scienza, l'universo e la nostra consapevolezza che cambia con il tempo le carte in tavola. Per cui nell'antichità si credeva che esistesse la forza di gravità, oggi si pensa che l'universo sia un universo olografico e la gravità ha tutto un altro significato. La formula è sempre la stessa, ma il significato è completamente diverso. Quindi noi siamo oggi tornati a rivisitare la formula di Newton della gravità e gli abbiamo dato un'altra accezione. Questo cosa vuol dire? Che non si scopre a scalini, ma a questa scala viene rimodellata momento per momento, attimo per attimo. Questo è l'aspetto della scienza, quella vera. Come fa a questo punto un signore per la strada che non si sia mai interessato in realtà di scienza a subirla. E apre la televisione e guarda quello che dice la televisione. Va dal medico e ci sono le due frasi famose, l'ha detto il medico, l'ha detto la tv. Queste due frasi, una volta, vent'anni fa, neanche tanto lontano nel tempo, venivano prese come punti di riferimento. Me l'ha detto il medico. L'ha detto la televisione, sarà vero. Cioè, no. Ecco, ora sono invece diventate sinonimo di scienza con l'h, come si dice oggi. Cioè, l'ha detto il medico, madonna, se l'ha detto il medico allora faccio un'altra cosa. L'ha detto la televisione, ma per carità, la televisione ci fai quattro risate sopra. Che cosa succede ora? Che non ci sono più questi punti di riferimento che una volta avevamo. Punti di riferimento sulla scienza. Punti di riferimento che dicevano sostanzialmente. Recitavano così. Te sei un medico, te sei un comunicatore, sicuramente hai studiato e quindi ci darai delle informazioni corrette e giuste, perché te sei uno scienziato. Oggi si scopre che le cose sono molto più complicate. Come si fa allora a credere a un medico o a credere alla televisione? Eh, c'è qualcuno che se la cava semplicemente dicendo è tutto sbagliato, non è vero niente. È una situazione di comodo, non si può dire così, perché la televisione dice delle cose che sono delle follie, ma dice delle cose anche che sono corrette. Magari le dici alle tre di notte quando te non le vedi, ma quello è un altro paio di maniche. Così il dottore sicuramente potrà dire un sacco di sciocchezze, ma qualche cosa di giusto la dirà. Se no, si fa come persone che non sono in grado di comprendere, perché non hanno l'acquisizione di consapevolezza. Cioè, te perché una volta sei stato fregato, turlupinato, che ne so, da una ragazza, allora decidi che non avrai più relazioni con una ragazza. Sai quanti ne conosco? Sei stato fregato dal tuo datore di lavoro, quindi non ti fiderai mai più di nessun datore di lavoro. È una risposta molto poco consapevole, che ti porta psicoanaliticamente a erigerti su un piedistallo dal quale tu non scendi, in alto ti credi di essere colui che è super partes, ma in realtà ti sei messo là sopra perché hai paura di scendere e di fare l'esperienza della vita. Non so, il terapiatista di turno ti dice oh, i lavori della NASA sono tutti sbagliati, non mi fido della NASA, perché la NASA dice tutte puttanate. La NASA non dice tutte puttanate, dice molte puttanate, ma te devi avere la capacità di discernere. Questo è un aspetto fondamentale che separa lo scienziato finto dallo scienziato vero, la capacità di discernere. Tu hai un lavoro scientifico perché lo devi riprodurre in laboratorio, quante volte mi è successo, leggo la parte sperimentale e rifaccio la reazione. Nella parte sperimentale ci sono delle cose che a volte sono palesemente sbagliate, palesemente sbagliate, e sta a te accorgertene, perché se tu ti fidi del lavoro scientifico perché è semplicemente stato pubblicato, in quell'istante tu dici, sei come colui che pensa nel modo vecchio, siccome il lavoro scientifico è passato attraverso un riferaggio, i riferi hanno preso la responsabilità di dichiarare quel lavoro vero, quindi a me che mi frega, per me è vero. Già, ma questo ti fa credere che la scienza sia una religione. E vedete che si ritorna al problema che oggi la scienza e la religione hanno scoperto le loro carte e hanno mostrato la loro vera identità. Sono una cosa sola. Bisogna, bisognerebbe, che sia la scienza che la religione tornassero a essere quello che erano una volta. Parliamo solamente di scienza in questo momento che facciamo prima. La scienza deve essere qualche cosa che deve subire in continuazione degli upgrade. In altre parole, si vede subito chi è uno scienziato vero, credibile, affidabile, oppure uno scalzacane. Lo scienziato vero non considererà mai la scienza come una cosa esatta. Questa c'era scritta sui libri di scuola del 1980. Questo lo diceva Piero Angela. No, la scienza è assolutamente una cosa in upgrade continuo. Quindi, se è in upgrade continuo, non può essere una cosa esatta. È esattibile. Cioè, a tempo infinito probabilmente le leggi della fisica che noi abbiamo studiato, e parzialmente compreso, saranno comprese totalmente. Ma questo non è. Quindi, quando il terrapiattista di turno ti dice la terra è piatta e basta, oppure la terra è piatta perché è tisciorina una formula che non ha granché senso. Il problema è, guarda, che questa cosa non ha senso, te glielo puoi dire, discutiamone, parliamone, discutiamone. Ma si scopre, non a caso, che la maggior parte dei terrapiattisti, per esempio, sono credenti. Sono credenti. Bene, nel mondo occidentale io non conosco terrapiattisti indiani, ma nel mondo occidentale sono sostanzialmente cristiani, cattolici, cristiani. Allora, questo aspetto è fondamentale perché una persona che non accetta la discussione è così perché è dogmaticamente così, quello stai tranquillo che non è uno scienziato. Quindi, magari è in buona fede, magari ha studiato, ma magari non ha capito, ma come tutte le persone che non capiscono, non hanno capito di non aver capito. Questo è un aspetto coscienziale. Non si impara a scuola, si impara dentro di noi. Questo aspetto fondamentale mi fa dire, per esempio, che, e qualcuno mi ha ripreso su questo, perché mi ha detto che non lo dovevo dire, che sono stato maleducato, a dire, per esempio, che i terrapiattisti sono cretini. Ma, ragazzi, la lingua italiana ha un significato preciso. Che cosa vuol dire cretino? Non è un'offesa, almeno nel senso ortodosso del verbo, e vi spiego perché. Allora, ammettiamo che io incontri un elefante e gli dica, sei un elefante. È certo, è un elefante, c'ha la proboscite, c'hai il nasone lungo. Certo, c'hai il nasone lungo. È forse un'offesa. È la realtà, c'hai il nasone lungo. Allora, la parola cretino viene da cretienne, che è, nell'antico francese, vuol dire cristiano, perché, in lo tempore, i francesi usavano questa parola, povero Cristo, voleva dire cristiano, cioè quello che noi ci sarebbe, ci apparirebbe come un povero di spirito, poverino, è cristiano, che ci vuoi fare? E in quel contesto veniva utilizzato questo termine, cioè non ci puoi fare nulla. Quanto fa 2 più 2? 19, va bene, è cretienne. Ecco, quindi non è un'offesa, è la dichiarazione di uno stato de facto. Io capisco che la gente pensi che sia un'offesa, ma non è così, è una descrizione di una realtà. E questa realtà va detta, perché guardate che la gente, soprattutto in Italia, ha un problema. Tu pensa, stai per la strada, cammini, corri e a un certo punto passa uno con un motorino vicino a te, ti prende la borsa e te la porta via. E se te gli dici al ladro, al ladro, lo stai offendendo, è bene, lui si può fermare e dire, eh, ma hai detto ladro, quindi io ti denuncio. In Italia succede così. Questo è un paradosso tremendo della legge italiana, però funziona così. Poi si discuterà chi ha ragione e chi non ha ragione, qua, là, su e giù. E nessuno avrà mai ragione alla fine. Però la cosa interessante è che se te hai davanti un cubo verde, devi dire questo è un cubo verde, perché questa è la scienza. Si vede, si sperimenta, lo fai vedere a cento persone, fai una statistica, magari capita un daltonico che lo vede marrone, ma alla fine fai un test del chi quadro, si chiama così, un test, una curva gaussiana, e scopri che statisticamente quel cubo è verde, perché la maggior parte delle persone dice è verde. Perché lo hai dimostrato, è verde, lo hai dimostrato. Questo, attenzione, non vuol dire che la ragione sta sempre dalla parte della maggioranza. Questo vuol dire che la maggior parte di persone ha fatto uno esperimento, come faceva Galileo, e ha dimostrato che questa cosa è così. Non è che io domani mi faccio la punturina, in centomila ci facciamo la punturina e diciamo la punturina ci fa bene, quando di questi centomila l'ottanta per cento si è ammalato. Perché allora c'è una dissonanza cognitiva tra quello che tu credi di essere quello che in realtà sei, un cretienne, cioè non hai capito come gira il mondo. Ecco, allora il primo punto per capire che cos'è la scienza è, guardate, gli scienziati sanno che la scienza è in upgrade continuo, quindi non c'è una verità. La verità al massimo può essere dimostrata in laboratorio o con i grandi numeri, con una scienza che si chiama statistica e sui grandi numeri è una scienza esatta. Dopodiché non troverete mai uno scienziato vero che offenda un altro scienziato dicendogli tu non hai studiato, non hai capito niente. Non gli può dire sei un cretino, perché cretino non ha senso, non è un'offesa, è uno stato de facto che va comunque dimostrato. No? Allora, queste sono le due cose fondamentali da comprendere. Primo, lo scienziato pensa che la scienza sia in continua evoluzione e bisogna dimostrare in laboratorio le cose, perché se le cose in laboratorio le dici ma poi non le dimostri o le prove sperimentali pubblicate in letteratura ti dicono il contrario, ecco che c'è qualche cosa che non va nel tuo discorso. Tu, e questo è il primo step, il secondo step è guardate gli scienziati come si comportano con i loro colleghi, cioè coloro che sono aperti alla discussione, parliamone, verifichiamo, vediamo, mi potrei essere sbagliato? E certo, che problema c'è? Che non legano il loro ego ai lavori pubblicati, cioè pensano che anche se io ho una grande competenza potrei aver sbagliato qualcosa, quindi non legano il loro ego ai risultati ottenuti e pubblicati. Ecco, questi sono gli veri scienziati. Perché in questo momento storico nel 2022 che noi stiamo abbandonando c'è stata parecchia confusione, perché la gente ha sostanzialmente poca consapevolezza di sé, cioè la parte platonica di scienza che era, guarda che esiste una parte animica che può dire la sua e non solo una parte spirituale che può dire la sua, perché la parte spirituale fa i conti. La parte animica ti dice, sento che c'è qualche cosa che non va in tutto questo discorso, ecco, la parte animica è stata sostanzialmente non presa in considerazione ancora una volta. Cioè, noi abbiamo delegato una scienza ed una religione che non esistono più ora a continuare a prendersi le responsabilità di quello che succede a noi. E invece noi, in questo momento storico, dobbiamo prendere la responsabilità su di noi. Cioè, cosa fare? Fare quello che ho fatto io, con calma, andarsi a leggere tutti i lavori, per esempio, di PubMed e cercare di capire che cosa stava succedendo in questi due anni di pandemia. E io mi sono fatto una mia idea. Una mia idea. Questa mia idea poi l'ho sperimentata guardando cosa succedeva in giro. Ho visto che i numeri delle persone che avevano fatto la punturina reagivano in quel modo e ho capito delle cose. Qualcun altro avrà fatto degli altri esperimenti e avrà avuto visioni completamente diverse. Su questo se ne può sostanzialmente discutere. Questo è l'aspetto fondamentale. Per cui quest'anno, quando andiamo a comprare il burro, compriamo pure quello bianco, che almeno non sarà inquinato da un inutile colorante che non serve a niente. E quando qualcuno leggerà, se ne ha voglia, il mio ultimo lavoro scientifico, in cui io ho partecipato per metà, ovviamente, alla stesura di questo lavoro, sul radar ad apertura sintetica, vorrei che lo leggesse con criterio. Cioè non dicesse, siccome i satelliti artificiali non esistono perché la terra è piatta, allora questo lavoro è finto. Perché di Chrétien su questo pianeta ce ne sono tanti e se ce ne fossero molti meno, sarebbe meglio. Buon 2023.